Musica Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per questa rassegna stampa Sono le 7.30 come ogni giorno, siamo qui con occhio ai giornali per darvi la prima informazione e vedere un po' che cosa c'è nelle pagine dei quotidiani che troveremo in edicola E' tutto pronto ma naturalmente guardiamo prima le previsioni del tempo e poi il santo del giorno Il santo del giorno e le previsioni del tempo, vediamo subito il santo di oggi Sabato 18 giugno è San Gregorio, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.51 Previsioni del tempo, dicevamo, è quelle qui con l'aiuto della grafica della protezione civile delle Marche Le previsioni per oggi, per sabato il cielo è sereno, poco nuvoloso con nubi cumuliforme in sviluppo nelle zone interne, nelle ore più calde della giornata, le precipitazioni, c'è possibilità di qualche isolato rovescio e temporale nelle zone montane e nel pomeriggio, le temperature sono in lieve diminuzione Quindi temperature che scendono per le previsioni per domenica presentano un cielo di questo tipo Come vedete è nuvoloso, è carico di pioggia anche perché dalla tarda mattinata rovescio temporali sparse Nella prima parte, insomma, nelle zone interne e poi queste piogge si sposteranno man mano verso la costa Nel corso del pomeriggio e le temperature ancora in diminuzione Questo è il quadro di domenica, vediamo per lunedì come si presenta all'inizio della settimana Anche qui all'insegna della nuvolosità, copertura in diminuzione però nel corso della giornata Quindi si andrà verso il bello, le precipitazioni in mattinata sono anche nel primo pomeriggio Però soltanto sui rilievi, questo è quello che ci attende dal punto di vista della meteorologia Questo è quello che invece ci attende dal punto di vista dei giornali per oggi E lo vediamo subito Allora il fil rouge di tutti i giornali, possiamo dire che è appunto il maltempo L'ammareggiata di Levante che ha causato danni ingenti alle strutture balneari Ormai in pieno assetto di stagione con tutti gli ombrelloni e i lettini montati in spiaggia Se ne sono andati veramente tanti tanti metri di spiaggia E poi insomma la nuova questura E allora guardiamo, partiamo subito con il resto del Carlino di Fano Che titola Benvenuti in Sabbionia L'Ira dei Bagnini dopo la devastazione in spiaggia Quintali di Ghiaia e Rosi a Sassonia Naturalmente rabbia e anche insomma qualche nota ironica per stemperare un po' il disagio Vedete nella foto, ogni quotidiano riporta qualche foto di questa amareggiata di Levante Che ha insomma veramente devastato tutto il litorale, tutta la costa, marchigiana Sotto anche a San Benedetto, insomma abbiamo letto nelle pagine degli inserti Che insomma del corriere e del messaggero che arrivano fin giù Che sono stati veramente momenti di grande apprensione per loro nella nottata Continuiamo sulle pagine del resto del Carlino di Fano Vi faccio vedere questa pagina, la pagina 19 Che parla della chiusura delle mura malattestiane per le asfaltature Vedete appunto i commercianti della piazza, del mercato Naturalmente che non sono stati molto contenti di questo Anzi, caos, proteste e affari in fumo al mercato Perché la chiusura delle vie mura malattestiane è avvenuta proprio nel giorno di mercato infrasettimanale Fabio Esposito dice che bisognava dare una via alternativa E c'è appunto addirittura chi è andato contromano per arrivare lì in centro Qui è appunto il disagio esposto dei commercianti che hanno vissuto questa giornata Insomma un po' anomala Via Mura Malattestiana è una via importante Insomma che mette in comunicazione il centro con il resto della città Una delle tante che mette in comunicazione il centro con il resto della città E quindi insomma, chiaramente in un giorno di mercato C'è stata qualche difficoltà non solo per gli operatori ma anche per chi doveva andare in centro Si parla anche di ospedale, di ospedale unico e di referendum Nelle pagine del resto del Carlino di Fano Luzzi di Sinistra e Serra di Noi Città Di Sinistra Unite e Noi Città Serra votano con l'opposizione Il referendum la maggioranza è divisa Il capogruppo PD Bacchiocchi chiede una verifica e non accadrà più Le votazioni sono incerte La proposta dei 5 Stelle non è passata per poco Però Serri pensa ad una soluzione Rimaniamo nel resto del Carlino Andiamo a Pesaro perché anche qui, come vi dicevo, ci sono stati grossi danni alle strutture E qui il Carlino titola Dopo la mareggiata Tanti dubbi persi Anche 20 metri di spiagge Siamo stati devastati dal mare Appello alla Regione per le scogliere Paolo Sorace dice Vorrà dire che dirò a Oliva dell'Apa che non riserverò ombrelloni per gli alberghi Questo è il commento di Sorace La rabbia dei bagnini appunto a pagina 4 e anche 5 C'è un'altra pagina, qui vedete c'è una ruspa Ma la ruspa è tutta intera Che sta appunto rimettendo in sesto la spiaggia L'ultima pagina che vi faccio vedere del resto del Carlino Parla della nuova questura L'altro argomento presente un po' in tutte le testate Che finalmente Fumata Bianca per la nuova questura Finalmente è la volta buona Firmato l'accordo tra Stato, De Manio e Comune Per trasferirla nell'ex intendenza di finanza E quindi il prefetto è il primo problema che mi è stato posto Dice quando ho ricevuto l'incarico di prefetto E ritengo che si tratti di un risultato storico E ne vado fiero Il preventivo dice che dentro il 2017 partiranno i lavori di ristrutturazione Costo totale 6 milioni di euro Cambiamo testata Andiamo appunto nel Corriere Adriatico Che vi dicevo riporta questa notizia un po' a tutti i giornali Quindi anche in pagina di Pesaro Inserto pesorese del Corriere Adriatico C'è in grande evidenza questo accordo La soluzione La soluzione definitiva per la nuova questura Ricci è soddisfatto Comune, Ministero e De Manio Siglano l'accordo per l'ex intendenza di finanza Poi in testa di pagina Parcheggi cancellati Chioschetti nei microparchi della città Osservazioni al piano regolatore light Le modifiche approvate Lo strumento arriverà in consiglio la prima settimana di luglio Mutano le regole per l'apertura dei polo emboratori E nei negozi sfitti al piano terra potranno trasformarsi Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico Però guardiamo cosa ci propongono Nella pagina di Fano In testa subito chiarimenti sull'ultimo aumento di capitale Si parla di aeroporto E' una mozione dei 5 Stelle Il sindaco chiederà a Rita Benini Di rendere conto di come sono stati spesi i soldi E poi si parla appunto di sanità Il referendum è in centro pagina Il referendum sarò io a proporre la data Parla appunto il sindaco Ed è scontro con l'ex sindaco Tra appunto Seri e Daguzzi Nessuna modifica allo statuto Ma il sindaco difende la consultazione Prende una posizione ben decisa Su la consultazione referendaria Per i pentastellati L'ordine di bocciare la deriva Sull'aumento dei tempi È venuto proprio dal PD Sull'allungamento dei tempi È venuto proprio dal PD E poi si parla anche di musica Festa europea della musica I palchi allestiti in centro storico A Lido e alla Sassonia 20 concerti Tutti in un solo giorno Dalle 6 di pomeriggio Fino a mezzanotte Una bella pagina Un bel momento Un bel momento per gli amanti della musica Ogni genere musicale sarà presente Nella città di Fano Per questa giornata così importante Anche il Corriere Adriatico Non poteva fare a meno di riportare Insomma i dati sulla mareggiata Divora appunto Arrenili e Arredi Bagnini in spiaggia fino a tardanotte Per tentare di contenere La violenza delle ondate Ma più che tentare di contenere La violenza delle ondate Che insomma Quella è Tentare di salvare il salvabile Portati via appunto Tanti metri di spiaggia Ma almeno gli ombrelloni Se li sono messi al sicuro Ma anche a Marotta Come vi dicevo Conta i danni Dopo un altro giovedì nero E qui insomma A distanza di 7 giorni Esatti dalla bomba d'acqua Un altro evento Un'altra calamità naturale Ha colpito la zona di Marotta E questa viene dal mare La forza dell'Adriatico del mare Mette in ginocchio Stabilimenti e operatori La pagina anche dell'interno Andiamo a San Costanzo Anche a San Costanzo Un ricco calendario di eventi Un'estate addirittura Con il turbo presentato Il calendario degli eventi Tornano anche le Olimpiadi Senza frontiere Sono 35 le iniziative Presentate dalle 15 associazioni Coinvolte anche Fiore all'occhiello Il festival Terre e Immagine Quindi ci sarà Da divertirsi anche A San Costanzo Andiamo a Senigallia E anche qui vi dicevo Non si poteva fare a meno Di puntare La lente di ingrandimento Su quello che è avvenuto Nella mareggiata Siamo in ginocchio Anche loro Vedete Naturalmente Vi dicevo Tutto il litorale È stato flagellato Dalla violenza Delle onde Per questa mareggiata Da Levante Operatori balneari Disperati Naturalmente In certi tratti L'acqua Ha inghiottito Anche quattro file Di ombrelloni È scavato Veramente Delle fosse Delle buche Dei dislivelli Ci sono Addirittura Di un metro Un metro e mezzo Tra Insomma La riva Il bagnasciuga E Le file di ombrelloni Veramente Incredibile Impensabile Perché L'evento Era naturalmente Inatteso Nuova questura Pronta nel 2019 Siamo nella pagina Di peso Del messaggero Anche qui Attenzione A questo A questo evento Firmato con L'Agenzia del Demanio L'accordo Operazione Da 6 milioni I lavori Al Via Nel 2017 Poi anche qui Fotonotizia La mareggiata La spiaggia Non c'è più La rabbia Dei bagnini Si parla anche Nelle pagine Del messaggero Delle spese pazze In regione Fondi Chiesti Tre anni Per spacca Due per comi Due e quattro mesi Per Bugaro L'altra pagina Del messaggero Che vi propongo È naturalmente Quella Della mareggiata La spiaggia Che non C'è più E poi Anche il messaggero Parla di Fano La burrasca Ha spazzato via Decine e decine Di metri Di arenile L'ultima pagina Del messaggero È quella Che vi faccio vedere Di Fano E anche qui Si punta Sul referendum Seri Pensa di Unire Ospedale E Riforme Botta risposta Tra il sindaco E l'ex Aguzzi Parla A sproposo Dice perché Ha avvallato Fosso Sei ore Poi la proposta Dei 5 stelle Ha messo sotto La maggioranza Il centro sinistra È in difficoltà Il vescovo Poi incontra Qui di spalla Gli operatori Economici Economia E comunità E solidarietà Questi sono i temi Del nuovo incontro Tra il vescovo Armando Trasati E gli operatori Diocesi Stamani Alle 9.30 Nella sala Riunione Del centro pastorale A Fano In via Roma Poi scendendo Nella pagina Del messaggero Che riguarda Fano Due iniziative Martedì Taglio del nastro Per la casa Della musica Al Sant'Arcangelo Quindi Questa casa Della musica Che insomma Si è voluta fare L'inaugurazione Proprio nel giorno Del festival europeo Della musica Una concomitanza Di eventi Non casuale E poi L'altalena Per bambini Si parla di disabilità O di diverse abilità Come qualcuno Giustamente vuole dire Nella zona Di Sassonia A ridosso Del centro Per anziani Ci saranno anche Giochi Per bambini Normodotati E poi questa Altalena Per bambini Disabili Che è già stata Installata Appunto In Sassonia Ma che si inaugurerà Domenica 26 giugno Con lo scopo Della Integrazione Della inclusione Di tutti i bambini Che hanno diritto Di giocare Bene Grazie per essere stati Con noi In questo primo straccio Di informazione Della giornata Naturalmente Occhio ai giornali Torna lunedì mattina Alle 7 e 30 Poi per il resto Dell'informazione Avete a disposizione Sia il nostro sito Internet Che la nostra Pagine Su Facebook Grazie Buon fine settimana A tutti voi E insomma Ci rivediamo Lunedì Arrivederci Grazie 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 Grazie